calabria in fuga l'ultima volta che avevo veduto la calabria era stato alla vigilia della seconda guerra mondiale le stazioni che per lo più si trovano isolate a grandi distanze dai centri abitati sui monti erano affollate parte della folla prendeva d'assalto i treni ed erano i giovani chiamati alle armi l'altra folla donne e vecchi e bambini salutavano gridando dal marciapiede gridavano addio e gridavano anche viva la guerra un grido che detto da un popolo povero poteva fare una sinistra impressione in chi avesse un presentimento della catastrofe dell'europa e del nostro paese tutto le donne benedicevano ad alta voce con quella nenia propria calabrese i loro figli che andavano a morire e a soffrire e questa non era una scena patriottica da 70 anni la calabria dei poveri aveva gridato viva a tutte le guerre perché la guerra consentiva di partire di trovare ventura di correre un mondo dove forse ci si poteva fermare a guadagnarsi la vita e intanto di lasciare alla madre o alla moglie l'assegno che il governo passava alle famiglie che era stato prima di 3 e 50 ora di 10 lire al giorno di non pesare sul bilancio familiare e anzi di risolverlo con quelle 10 lire e in caso di morte di lasciare una fortuna la pensione a proposito del popolo forse più patriarcale d'italia i cui legami familiari sono tenerissimi questa testimonianza potrà parere assurda e crudele ma io sentì allora madri rimpiangere i figli morti in tenera età di non essere più tra i viventi e di non poter andare a guadagnarsi con la guerra una sovvenzione per la famiglia e giovani che avevano aspettato di sposarsi per mancanza di mezzi ora sposavano la loro ragazza alla vigilia della partenza come un tempo avevano fatto gli emigranti perché ora le lasciavano 10 lire al giorno ciò che allora in calabria significava mutare condizione sociale e oggi la calabria è di nuovo tutta errante ma senza più saluti alle stazioni le stazioni e i treni sono affollati di giovani come se tutta la generazione della guerra non avesse più posto in casa i treni sono presi d'assalto in corsa nelle stazioni si aspetta ore e ore le corriere che hanno reso faticosamente praticabile la calabria lungo le giogaie e i crinali dei monti risalendo e i 1500 metri per raggiungere le grandi linee di comunicazione trasportano perpetuamente e senza confusione senza odio quasi senza dolore una popolazione divenuta nomade coi suoi pesanti fardelli il suo pane il temperino per tagliarlo a poco a poco segnando il pane di domani difficilmente si trova nei paesi e nelle città un posto per dormire e occorre cercare da casa a casa un riparo che costa il prezzo di una camera di un grande albergo i soli luoghi dove si trova posto sono le trattorie e le osterie il calabrese mangia il suo pane tagliato col coltellino come da un buon pezzo di legno seduto sul suo sacco nella sala dove aspetta il treno per milano per roma per aosta per torino per tutti i luoghi dove per lui c'è ventura essi conoscono la dislocazione del lavoro in tutta la penisola se ne comunicano le notizie per un'ora ho ascoltato qui la descrizione informatissima dei lavori in provincia di bolzano delle chiuse dell'adige dell'isarco delle dighe dei trafori e se avessi preso appunti potrei dire i nomi delle ditte i progressi delle varie squadre e i cruchi cioè i tedeschi che fanno i cruchi hanno di meglio da fare sono gli italiani che fanno queste cose partono a un richiamo a un'informazione carpitenaria a una lettera a roma per esempio hanno stabilita una loro comunità verso la marmorata che vive in dormitori comuni ottenuti con le lattine dell'olio e i formaggi che uno va periodicamente a prendere in paese per i padroni di casa consumano le riserve portate con loro e di continuo rifornite dai loro corrieri e cercano lavoro ora ricordo di averne conosciuto uno sua madre in un momento di pazienza radicale calabrese aveva resa irreparabile la sua miseria demolendo pietra per pietra la sua casupola di granito e di fango e poi morì il figlio lo vidi a roma e poi lo incontrai a milano e poi a napoli aveva un viso arguto e un lungo naso primitivo di qualche figurina delle più remote statuine di creta di questa terra a napoli mi disse di trovarsi meno peggio nella miseria generale tra i mestieri di un giorno e d'un'ora dove si può dormire seduti sulla soglia di una porta con la testa posata sul fagottino qui affolano le stazioni giorno e notte le scritte più oscene che mai si possano leggere sono sulle pareti delle stazioni calabresi in una specie di gergo dialettale e arcaico danno un'angoscia sessuale a questa agonia di vita la miseria a volte trova la sua espressione delirante nella protesta sessuale una di queste scritte la più ripetuta in tutte le stazioni mi proverò a riferirla evitandone la scabrosità dice pressa poco la donna coi suoi attributi mangia pane e l'uomo coi suoi attributi muore di fame non avevo mai letto una protesta più radicale da essere nato uomo nelle scritte di questo genere come nei discorsi che si sentono in tutte le inflessioni dei numerosi dialetti calabresi è rovesciato ogni concetto della vita e della vita pubblica il ricordo delle catastrofi recenti della nazione diventa memoria del tempo in cui al rischio della strage della rovina morale e materiale a costo di seminare ed ossa italiane l'europa e l'africa si trovava lavoro che cosa diventino i nostri concetti di libertà e di democrazia di rispetto della persona umana a patto di un'umanità simile me lo domando e tanto più che non si tratta ad una folla disordinata cruda e infida come si immaginerebbe e come dovrebbe essere la folla in condizioni simili non un grido non un canto non litigio non una parola forte non uno sguardo di invidia la calabria nomade non ha perduto quella qualità che è eminentemente sua della dignità umana del rispetto dell'uomo la fuga è dunque oggi il tema della vita calabrese lo è sempre stato in qualche modo ma oggi si ha l'impressione di una primitiva tribù che abbandona una terra in ospite e ciò è tanto più crudele in quanto la loro terra è bella ho sentito dire da molti stranieri che è una delle più belle d'italia io non lo so perché l'amo ma so che si fugge e si rimpiange con la sua pena si torna e si vuole fuggire come con la casa paterna dove il pane non basta e una tale fuga il calabrese se la compie anche se sta seduto a un posto in un ufficio o dietro uno sportello è raro vedere qualcuno che si trovi realmente là dove sta fisicamente o fantasticamente la calabria è oggi in fuga da se stessa senza dramma senza rancore con la forza di un fenomeno della natura la calabria reagisce con tutte le sue risorse a una condizione inferiore o servile con tutte le sue due energie cerca una condizione in cui l'uomo sia padrone di sé e del suo destino certi grandi fenomeni incontrollabili ma incoercibili come questo si possono percepire con una relativa esattezza in alcuni piccoli sintomi e così per esempio ho trovato in calabria impiegati portieri d'albergo fitta camere inservienti insomma tutti coloro i quali hanno da fare col pubblico i meno adatti al loro ufficio e forse simili soltanto a quelli che nelle stesse funzioni conobbi in qualche luogo d'oriente o del levante non si possono dire scortesi nelle preregrinazioni per poter trovare un alloggio ho dovuto aspettare discretamente che il portiere la fitta camere il facchino levassero gli occhi dal loro giornale o dal loro libro e si accorgessero di me qualcuno per non interrompere la sua occupazione rispondeva che non c'era posto e poi il posto si trovava perché un altro sulla porta mi vedeva uscire stanco e seccato così negli uffici dove mai un'informazione è recente neppure nei cosiddetti enti turistici ho sempre l'impressione di infastidire tutta la gente è occupata ad altro e perlomeno al timore di vedere offesa la propria dignità essi non servono il pubblico si prestano poiché vengo da roma si mettono l'impegno a essere in regola e pignoli per mostrare che qui si conoscono le regole a volte si capita mentre da una scrivania all'altra da uno sportello all'altro si discetta su una questione generale su una casistica o semplicemente su un fatto del giorno ognuno sfodera la sua acutezza non mi daranno retta fino a quando non avranno terminato avendome per pubblico e io aspetto i loro sguardi il loro contegno mi ammoniscono di non attentare alla loro dignità so di che si tratta si tratta di persone che al riparo della miseria generale con un berretto gallonato o dietro uno sportello vedono tanta folla in forme e angosciata sbattere come cieca in un destino umano che oggi è di tutti ma che in calabria ha un'evidenza drammatica e dentro il loro sportello sotto il loro berretto hanno una dignità conferita d'ufficio che non deve essere disturbata o menomata che non vuole essere confusa con l'umile paziente umanità errabonda essi soli fermi ma pur fantastici ma pur evasivi e del resto il timore del forestiero è ben espresso in un incontro di uno scrittore americano che percorreva tempo fa la calabria egli si fermò con la sua enorme macchina a un crocevia verso nicastro trovò una giovane donna sola e richiese strada la strada e la rispose soltanto sono sposata da una settimana alle resistenze di lui e la oppose senza levare gli occhi la medesima risposta e qui si apre un discorso sulla condizione dell'uomo nell'attuale società calabrese grazie 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 grazie